Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Ciccio Caprizolta e oggi sto parlando pianissimo perché è sabato e sono le 7 del mattino, si vede? No, sono comunque le 7 e 44 e i miei genitori stanno ancora dormendo, cioè mia mamma sta ancora dormendo e le mie sorelle Oggi andrò a Empoli in previsione della partita di stasera, Empoli-Milan, il tifoso milanista, e andrò all'hotel a vedere i giocatori Se posso vi farò vedere queste riprese dei giocatori nel Milan, spero vi piaccia il video, quindi iscrivetevi al canale subito Noi ci vediamo laggiù all'hotel, ma a dopo, ciao! Noi ci vediamo! 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 Noi ci vediamo!